ragazzi qual è un passo fondamentale da fare se ci si vuole trasferire all'estero un passo fondamentalissimo da fare per trasferirsi all'estero è passare il confine italiano e mettere piede nella nazione nel luogo nel paese da voi scelto se per esempio il vostro intento è trasferirsi in germania un passo fondamentale per trasferirsi in germania se optate per l'autobus il treno o la macchina come mezzo di trasporto il passo fondamentale da fare è mettere il vostro corpo dentro il treno o la macchina o l'autobus e passare prima di tutto il confine tra italia e austria e poi passare il confine tra austria e germania e finalmente siete in territorio tedesco chiaramente solamente dopo aver pianeggiato programmato tutto per benino e io non posso stare qui a dirvi come dovete pianeggiare il tutto perché la cosa è molto personale tutto al più io al massimo posso darvi qualche consiglio sulla germania ma dovete capire che se il vostro intento è trasferirvi all'estero prima o poi dovrete fare il passo fondamentale di passare oltre il confine italiano e ci sono vari modi per passare oltre il confine italiano dipende anche dalla nazione da voi scelta se avete scelto malta per esempio e siete dei gesù cristi che potete camminare sopra l'acqua e beh allora potete anche andarci a piedi a malta dalla sicilia per esempio no ma dovete capire che non è che l'estero è in italia altrimenti si sarebbe chiamato italia e non estero l'estero è oltre il confine italiano dovrete passare il confine italiano è un passo fondamentale prima o poi questo passo di passare il confine italiano lo dovrete fare è inutile che state lì a chiedere centomila volte se c'è lavoro alla dhl in germania se dieci persone per esempio che vivono in germania dieci italiani che vivono in germania vi dicono che nel 2023 c'è tanto lavoro alla dhl in germania tanta richiesta di personale basta lo avete chiesto dieci volte stop non lo chiedete più non lo chiedete più non ha non ha senso chiederlo un milione di volte una volta che avete capito che c'è lavoro in quel determinato settore in germania dovrete passare il confine italiano con l'aereo per esempio così schippate l'austria e mettere il vostro piede in germania e cominciare la vita nel deutschland dovrete cominciare a vivere in germania l'italia è l'italia l'estero non è in italia ok ragazzi ripeto dunque un passo fondamentale per trasferirsi all'estero è passare il confine il confine italiano un caro saluto ciao ragazzi